Ed eccoci di nuovo insieme alla rassegna stampa, occhio ai giornali di Fano TV, sono le 7.30 del mattino, buongiorno a tutti coloro che ci seguono in diretta e anche a quelli che ci seguono durante le repliche del giorno, sia sul canale 17 sia su internet. E allora subito il santo di oggi, un santo che arriva dalla Polonia, torniamo indietro nel tempo, San Giovanni da Chetti, nacque appunto in Polonia nel 1397 e sentite che cosa si narra di questo santo, fece moltissimi pellegrinaggi a piedi, ben quattro addirittura a Roma. Si narra che durante uno di questi viaggi un gruppo di briganti assalì lui e i suoi compagni di viaggio. Egli, accorgendosi di avere ancora degli spiccioli in tasca, richiamò i ladri in fuga per consegnarglieli. I briganti, commossi dal gesto, restituirono tutto il bottino. Morì a 83 anni durante la messa della Vigilia di Natale del 1473. Il sole è sorto alle 7.39 e tramonterà alle 16.35. Il tempo, andiamo sulla cartina, vediamo il tempo per oggi, cielo sereno, poco nuvoloso, sulla fascia costiera settentrionale, in mattinata, in dissolvimento nel corso della giornata, le temperature sono senza variazioni di rilievo, i venti di brezza tesa nord-occidentali. Per domani, vigilia di Natale, 24 dicembre, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature in aumento, giorno di Natale, ecco qua, avremo un cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature stazionari o addirittura in lieve aumento. Tempo stabile anche per la prossima settimana. Il resto del Carlino, attenti a chi date i soldi. Chi lo dice? Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro, che ha firmato la nuova ordinanza anti-accattoni, cioè se per coloro che chiedono soldi o anche venditori abusivi, però lui sostiene, io sono tra quei sindaci, che dice, sostiene che bisognerebbe multare i clienti e non solo quelli che chiedono l'elemosina, quelli che chiedono i soldi. E poi sotto, anzi sopra, sotto la testata, la tragedia di un informatico, muore in auto contro il muro, l'incidente a Cagli, la vittima un 37enne di Piobbico, possibile che sia stato colpito da un malore. Provincia, pagano anche i consiglieri, sforamento del patto di stabilità 2012, chiesti agli amministratori 140 mila euro. La pagina di Fano, invece, con l'apertura ieri dell'Interquartieri, dopo davvero tantissimi anni, più di dieci anni, Interquartieri, la sgasata attesa da 52 anni, sì, perché poi in realtà un documento è del 64, se non ricordo male. Giro d'onore in sella ad una Vespa per il sindaco Massimo Seri, l'assessore ai lavori pubblici, Cristian Fanesi, dice che si chiude per la città un anno straordinario. E ricorda Cristian Fanesi che sono stati asfaltati 40 chilometri di strade, però ci sono anche quelli, non è tutta una festa, perché ci sono quelli che non brindano, quelli che abitano lì, come per esempio Filippo Tranquilli, che ha detto che queste barriere antirumore le ha paragonate al muro di Alcatraz, un famoso carcere. Ha delle leopardi invece, con testa anche lei, i maxi pannelli, poi la ciclabile invece per qualcun altro è pericolosa, insomma non tutti sono d'accordo, non tutti brindano appunto e a non tutti piace, soprattutto quelli che abitano lì vicino a questo interquartiere, non tutti piace questa opera. Allora, per quanto riguarda l'incidente dell'altro giorno davanti al campo d'aviazione, è stata amputata la gamba del ciclista che è finito sotto le ruote del tir Sandro, dicono i familiari, si sente comunque un uomo fortunato e consapevole di essere stato un miracolato, mentre il presidente del club di Calcinelli denuncia, è la dimostrazione che le strade sono pericolose, chi deve rifletta. I medici purtroppo, come dicevamo, non sono riusciti a salvargli la gamba, ma lui comunque si sente fortunato, Alessandro Berardi, il 58enne, vittima di un terribile incidente stradale. Si schianta contro un muretto, muore un 37enne a Cagli, forse un malore, la causa della tragedia avvenuta nel centro del paese, la Opel Corsa del Giovane, andiamo sui giornali, forza, l'Opel Corsa del Giovane di Piobico, invaso all'altra corsia, urtando stipite, e vedete qual è la Opel sulla quale viaggiava Marco Bertozzi, è successo ieri sera alle 19.30 nel centro di Cagli, lungo la vecchia Flaminia, a 50 metri dall'ospedale. Poi per le scuole, le scuole con l'agrario urbana, benefici per tutto l'entroterra, esultano Ciccolini e Brandi, dopo il parere della provincia, entro l'anno la regione dovrà dare l'ok definitivo. Questo è sempre l'altra pagina del resto del Carlino. Quel dipinto è di Leonardo, parola d'esperto, ascoltato il professor Solari e alcuni testi che videro il quadro a Pesero, l'opera stava per essere venduta a dei fondi arabi, pensate, per 130 milioni di euro. Questo quadro, ritrovato dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri in un cavo di Lugano, ebbene nel 2015 vale 130 milioni di euro. La scomparsa di Vincenzo Gaudiano, dirigente ospedaliero e ultimo dei Cinque Fratelli, è scomparso ieri mattina all'alba nella sua casa pesarese, le sue condizioni erano andate peggiorando negli ultimi giorni, aveva 82 anni. Poi ci sono stati dei disagi sulla rete ferroviaria per un suicidio, un freccia bianca diretto al sud si è fermato alle 19.30 lungo la linea adriatica all'altezza di Cattolica per un investimento. Il macchinista ha avvertito distintamente un urto pur non vedendo alcunché e ha capito che era successo qualche cosa. E poi la linea è stata ferma, appunto, come dicevamo, per diverso tempo. Andiamo a Montemaggiore al Metauro, il gruppo No Fusione si smarca dai volantini, dai manifesti a lutto, ma promette azioni legali. È stata costituita l'associazione Montemaggiore Resiste, giovedì al teatro un incontro con i parlamentari e con i consiglieri regionali. Morì al volante, oggi addio al 62enne Facchini, siamo a Orciano, nella chiesa di San Cristoforo, il funerale del dipendente della cooperativa Coala. E adesso andiamo invece a leggere e apriamo il Corriere Adriatico. La dose prima della scuola. Questa è la notizia in evidenza, in prima pagina, sull'edizione di Pesaro. Controlli antidroga, sorpresi due minorenni nella piazzetta del Mamiani. La piazzetta è stata ribattezzata la piazzetta dello spaccio e non solo di sera, anche prima e dopo la campanella di scuola, fra i giovanissimi. Le segnalazioni erano già arrivate dai commercianti accanto al liceo Mamiani, dove in quella piazzetta, insomma, tante volte si sono visti movimenti un po' strani. Poi c'è la riforma sanitaria, sempre in primo piano, che fa 13 e diventa di comunità. La riforma scatta dal 1 gennaio. Ecco che cosa cambia. Pronto soccorso addio. Nei nuovi ospedali ci sono i punti di assistenza territoriale. Si chiamano proprio così. Andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico e la vediamo subito. Eccola qua, dove in evidenza c'è l'interquartieri e l'apertura dopo tre anni. Il nuovo tratto collega via Roma alla trave e conduce ad un parcheggio. Niente soldi per il completamento. Taglio del nastro accompagnato dalle proteste al poderino. Il sindaco si impegna a introdurre comunque dei correttivi. Spesi 4 milioni, il percorso è stato inaugurato da sera in sella ad una vespa con alcuni soci del club di Fano. Saranno monitorati i cambiamenti che l'opera porterà al traffico sulle strade complementari. Ciclista investito al campo di reazione, prima o poi ci scappa il morto. Il comitato Tre Ponti chiede da anni una pista ciclabile. Ignorata la mobilità leggera. Conti, andiamo sulla pagina di Pesaro. A Fossombrone, Conti intasca la giunta Bonci. Ai forsembronesi costa di più. Nonostante i tagli alle indennità, per l'opposizione il risparmio non c'è. Ricordiamo che è una giunta pentastellata, guidata da Bonci, che fa parte del Movimento 5 Stelle. Dunque l'opposizione punta sul fatto che ci si aspettava in qualche modo una riduzione dei costi della macchina del Comune. In realtà questi costi, questi abbattimenti non ci sono stati. Animato Consiglio Comunale anche su cultura e turismo. In coma farmacologico invece il bambino che è stato investito a Gradara, le condizioni sono stazionari per questo ragazzino di 11 anni con numerose fratture. È in coma da mercoledì pomeriggio ed è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale lungo la provinciale che da Tavuglia porta a Gradara. Isabella, un volto da Leonardo, a contenderla un principe arabo. L'avvocato, dice gli esperti, sotto giuramento, hanno detto che il viso del quadro è del maestro. Poi invece sotto la notizia che dispiace, perché dispiace, può solo dispiacere, può fare proprio rubato l'albero di Natale dalla tomba di mio fratello, parla Michele Ferri, che vedete in questa foto con Papa Francesco, il dolore che dopo Andrea ha perso anche l'altro fratello, Paolo. A pochi giorni dal Natale arriva una notizia che lascia davvero amarezza, perplessità, ma anche un senso di rabbia e impotenza. Hanno rubato l'albero di Natale che la famiglia Ferri aveva deposto con amore sulla tomba di Paolo, il piccolo di casa, morto lo scorso ottobre prematuramente, lasciando un grande vuoto in una famiglia già duramente provata. E adesso invece andiamo, torniamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, perché c'è la notizia di un gemellaggio, un gemellaggio tra due carnevali, quello di Fano e quello di Cuba. Il carnevale stringe un patto di amicizia con l'Havana. Il gemellaggio dopo un viaggio di Daniele Carboni, dei fratelli Carboni, a Cuba, richiesti i maestri carri stifanesi, a febbraio sfilerà in Viale Gramsci anche un colorato gruppo dell'isola caraibica. E dunque, insomma, questo carnevale potrebbe in qualche modo portare anche un po' di colore in più, certamente più festa, visto che, insomma, anche questi ragazzi, questi cubani, insomma, quando sono fatti, sono di un'altra pasta, diciamo, proprio nel DNA. Concerto gospel, invece, a teatro dedicato a Marco Maggioli, l'omaggio per aver portato il jazz a Fano 25 anni fa. e si chiude questa sera con un tradizionale concerto gospel, immancabile nei pressi del Natale, la stagione del Fano Jets Network, che nel 2016, ancora una volta, ha fatto registrare numeri di assoluta rilevanza. E adesso, invece, l'ultima pagina di Fano del Corriere, superpremio a Capodagli, Severi Tuona, Vergogna, il capogruppo della lista del sindaco attacca la giunta per la delibera su Aset Servizi, Lucia Capodagli è la presidente di Aset Servizi, che ha già uno stipendio di 30 mila euro, quindi verrebbe più che raddoppiato. E per la presidente l'indennità aggiuntiva, scrive il giornale, scatterebbe nel 2016. Per gli altri, invece, in futuro. Alle famiglie dei terremotati, invece, 150 cesti natalizi, è l'omaggio del Natale più, del Natale più, missione a Monte Fiorentino, guidata dalla presidente del Consiglio Comunale, Rosetta Fulvi. La pagina della Valle del Cesano, una pensionata trova i ladri in casa, siamo a Marotta, anche il vicino li mette in fuga, due furti mancati, paura e rabbia tra i cittadini, i colpi non si contano più ormai. Sono stati visti due giovani a volto scoperto, l'orario delle razzie è il tardo pomeriggio. Sul Catria, invece, manca la neve, però, insomma, sono state installate le prime 12 cabine chiuse, prima erano quelle aperte, saranno utilizzabili dal 26, l'impianto di risalita finito entro la primavera. E adesso da Pergola, Pergola ospedale alla deriva, appello del Partito Democratico alla Regione, rivendicato il nuovo primario di chirurgia, basta con il dibattito su Marche Nord. Diretta streaming da Mondolfo, arriva il sì unanime al Consiglio, anche Mondolfo passa la proposta a 5 Stelle, omaggio al gelatiere Guerrera, classificatosi settimo, pensate, al mondo. Senigallia, ultima pagina del Corriere Adriatico, pochi stretti e selvaggi, è il dossier sui parcheggi. Il sindaco, non tutti i posti sono utilizzati, mi confronterò comunque con i cittadini. A parte la giornata di mercato, ci sono alcune vie dove gli spazi sono vacanti. E dopo le feste si continua con la pista di ghiaccio, la proposta di un'azienda pronta a installare gratis a Senigallia, installarla, questa pista di ghiaccio, gratuitamente. Intanto arriva a Senigallia anche Babbo Natale. È tutto per la rassegna stampa di oggi, grazie per la vostra cortese attenzione. Noi ci rivediamo domani mattina alle 7.30, sempre con Occhio e Giornali, stasera invece alle 8.30, cioè il telegiornale, Occhio alla Notizia. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie per aver guardato il video.